Sotto un sole cocente, testa in famiglia stamane per l'Avellino contro la formazione primavera in vista dell'esordio di domenica qui al Partenio Lombardi in Coppa Italia contro il Matera 9-0. Il risultato finale a favore degli uomini di mister Novellino in evidenza Gigi Castaldo con una tripletta e Asenzio con una doppietta. Mister Novellino è ritornato al passato schierando il 4-4, 1-1 con Castaldo leggermente arretrato rispetto a Matteo Ardemani. A centrocampo invece la coppia composta da Di Tacchio e Paghera, spazio nella ripresa, Moretti a Capitan D'Angelo, sempre assente Richard Lasic. Ma la novità riguardato soprattutto il pacchetto difensivo dove c'è stato l'inserimento di Suager al centro che quindi va verso il debutto dal primo minuto domenica contro il Matera. Nel pacchetto arretrato al fianco di Suager è stato provato Gidai con la coppia Migliorini-Cresic che ha agito nella ripresa. Novellino insomma ha mischiato le carte con l'averone rizzato in veste di terzini difensivi. Pochi dubbi invece per quanto concerne gli esterni di centrocampo con Molina a destra e Bidawi a sinistra che dovrebbero così partire titolari contro il Matera. A rimpinguare il bottino finale sono stati Bidawi, Camarà, Moretti e nel finale Falasco. Tra i pali non ci saranno dubbi con Radu che sarà il titolare. Domani e sabato ultimi allenamenti a porte chiuse al partenio Lombardi. Domenica alle 20.30 l'atteso esordio stagionale che mette in palio il passaggio del turno in Coppa Italia con il Verona che resta in attesa di conoscere l'avversario al terzo turno della competizione tricolore.